Buonasera a tutti, nelle scorse ore si è parlato molto di Ilicic al Milan, un nome che è uscito già da qualche giorno, era già uscito messi addietro, infatti si parlava anche di fare un ipotetico scambio Caldara-Ilicic quando Caldara era ancora in forza all'Atalanta perché c'era il diritto di riscatto di Caldara fissato a 15 milioni e si trattava, si parlava più che altro di un possibile scambio alla pari con l'Atalanta che si teneva a Caldara e il Milan che si affarrava a Ilicic Dunque, il nome di Ilicic ci è tornato molto di moda in queste ultime ore, cosa succede? Succede che il Milan, come ben sappiamo, ha delle esigenze davanti Ne aveva già parecchie qualche mese fa, abbiamo preso Giroud come vice Ibra, tuttavia Celanoglu ci ha abbandonato, la fascia destra era, non voglio dire mediocre ma non era proprio, come dire, il ruolo in cui eravamo meglio coperti in campo Nel corso della stagione perché Salemakers è forte ma non rappresenta un punto fermo Quando pensi a Salemakers pensi sì, a un buon giocatore ma non pensi al campione che ti fa la giocata Tuttavia, almeno dal mio punto di vista, anche quando si parla di Ilicic non pensi a quel tipo di giocatore Eppure sembra che la società voglia prendere Ilicic come alla destra e non come vice Brahim, dietro la punta, quindi come trequartista Dunque, siamo tutti quanti molto scettici giustamente perché Salemakers non è un fenomeno Però siamo stati abituati a vedere comunque un ragazzo giovane che corre, che torna, copre bene Non è proprio un fenomeno coi piedi, diciamo che fa alcuni errori proprio magari non tanto di tecnica Ma più magari nella misura del passaggio, sbaglia, magari non è un gran tiratore da fuori Come lo è invece magari un po' di più Rebic, come lo è Teo per esempio Però diciamo che noi non ci lamentiamo di Salemakers Vorremmo un upgrade su quella fascia E quindi la società ha pensato bene di... o meglio, sta pensando in queste ore di fare questo upgrade con Ilicic Dunque, allora questa... vediamo se si vede bene Voi la vedete al contrario purtroppo, ma questa sarebbe la nostra formazione titolare Mike Maignan, Calabria, Kier, Tomori, Teo Hernandez, Kessy, Ben Nasser Poi Rebic, Diaz, Ilicic e Ibra Dunque, questo è il nostro 4-2-3-1 come lo conosciamo Ho messo ovviamente Maignan e Diaz al posto dei ormai andati via Donnarum e Celanoglu E ho messo Ilicic a destra al posto di Salemakers Perché andare a prendere Ilicic, almeno dal mio punto di vista Vorrebbe andare a dire... vorrebbe dire andare a prendere uno che giochi titolare Dunque, perché noi siamo scettici su Ilicic? Perché giustamente, pensiamo, è vecchio Ha anche i problemi suoi un pochino psicologici come li ha avuti in passato Gasperini qualche volta l'abbiamo visto in alcune partite che si arrabbiava con lui perché non correva E infatti abbiamo ragione Cioè, le nostre... i nostri mal di pancia, chiamiamoli così I nostri dubbi, la nostra diffidenza è fondata appunto su questo Perché, giustamente, diciamo, ma cavolo La società ce l'hanno menata a questi due anni da quando sono arrivati Anche tre Con questo progetto giovani E adesso che fanno? Vanno a prendere un attaccante Un altro attaccante Dopo Ibre Giroux Che ha più di 30 anni Ne ha 34 mi sembra Però, io ho pensato una cosa Allora, la nostra società non è impeccabile Anche loro fanno i loro errori Possiamo anche considerarlo, volendo un errore, non essere riusciti a monetizzare con Donnarum e Cialanoglu Anche se ne abbiamo guadagnato dal punto di vista della forza della società Perché, comunque, c'è un Tonali che si è ridotto lo stipendio per giocare al Milan E questo è una cosa buona Ce la troveremo nel futuro È un peccato, purtroppo, non essere riuscito a monetizzare Però è una cosa che, secondo me, nel futuro la rivedremo Vedremo che avrà portato buoni risultati Comunque, torniamo a Ilicic Dunque, noi abbiamo tutti i nostri dubbi, la nostra differenza Sappiamo che la società non è impeccabile Però, a me è venuta in mente una cosa Allora Nelle ultime uscite stagionali Più che altro dalla partita con il Torino Quindi alla terza ultima di campionato In cui abbiamo vinto 7-0, sì Il Milan ha un po' cambiato modo di giocare Adesso vi faccio vedere Dunque Andiamo un attimo con l'immaginazione, ok? Facciamo finta che qui al posto di Ilicic ci sia Sallemakers Dunque, che succede? Allora Un attimo che ricalco meglio Perché non si vede benissimo Ok Allora Questa, diciamo, è stata la nostra formazione O meglio, è stato il nostro modo di giocare Perché? Perché noi siamo sempre scesi in campo con il 4-2-3-1 Di partenza Però, in fase di costruzione Se ben ricordati, in quelle ultime partite Ad esempio col Torino Oppure con il Cagliari Sono cambiato un po' di cose In fase di costruzione Che succede? Succede che Teo si alza Teo va a fianco a Chessy I due centrali scalano con Calabria che si abbassa Quindi Calabria ce lo ritroviamo da qua Un pochino più in qua Sulla linea insieme a Chier e Tomori Dopodiché, quindi Andiamo a centro campo Abbiamo Teo Chessy Ben Nasser E Sallemaker C'è scritto Ilicic, però Immaginiamo Sallemaker Che si abbassa E quindi fa l'esterno di destra Un pochino più basso rispetto alla posizione di partenza Dopodiché abbiamo Come restanti Diaz e Rebic Che che fanno? Scalano E vanno uno da un lato E uno dall'altro Dietro a Ibra In questo caso Anche se in campionato non c'era Ibra Comunque In fase di costruzione Il Milan ha proposto quindi un 3-4-2-1 E io pensavo tra me e me Non è il ruolo di Ilicic questo Perché Ilicic secondo me Non è adatto a fare l'esterno Però Dov'è chi ha adatto Ilicic? Dov'è chi ha giocato bene nell'Atalanta negli ultimi tempi? Ha giocato Nel ruolo in cui Diaz e Rebic Vanno a scalare in fase di costruzione Quindi Cosa penso? Perché tutto questo macello Nel disegnare un campo da calcio improvvisato A mano? Io credo che La nostra stagione ricomincerà da dove abbiamo finito Credo che Noi Riprenderemo a lavorare Dove abbiamo finito Quindi Io sono molto Fiducioso in Pioli Perché Lo vedo cresciuto dal punto di vista Della persona Lo vedo cresciuto come allenatore Di mentalità Perché Non si può negare che un minimo di salto in più In quanto a mentalità vincente L'ha ottenuto Perciò Adesso facciamo una rivisitazione di quello che ho fatto O meglio La invertiamo solamente Dunque Allora Noi abbiamo visto che Con il modulo Di poco fa Ilicic Considerandolo al posto di Salemaker Sarebbe andato a finire Esterno Basso Centrocampo Nei quattro Davanti alla difesa Ma Se invece Il discorso si invertisse Ovvero Teo Scala Lo so È difficile pensare che Teo possa scalare Andare in difesa Però Il calcio È bello anche perché Non c'è nulla di scontato Le posizioni cambiano I giocatori si muovono costantemente Non sempre sale Calabria Magari Una discesa di Teo O meglio Una salita di Di Calabria Scusate Teo scala dietro Insieme agli altri due In fase di impostazione Dopodiché Rimangono sempre che si e Bernaser Rebic Scende Questa volta scende lui Quindi starà Insieme a Chessi Benaser E Calabria Che è salito E dopodiché Diaz Ibra E qua Ilicic Io credo che quello sia Il ruolo più emblematico di Ilicic Quello che ha ricoperto più volte Adesso questa è solamente una bozza Perché ovviamente Non sarà così Non ci sarà Teo che Che scende in difesa Non ci sarà Rebic che va a fare L'esterno di centrocampo Anche se Non lo sappiamo Magari potrebbe Essere un'opzione Però Il punto qual è? Ovviamente Queste sono cagate Però Avere un giocatore come Ilicic Che magari può essere impiegato In quella zona del campo Perché Chi lo sa Noi magari L'anno prossimo Inizieremo la stagione Non Non rivedremo più il 4-2-3-1 Magari chi lo sa Pioli decide di passare In modo così Di punti in bianco Alla difesa a 3 Decide di giocare col 3-4-2-1 Decide che Calabria può fare il terzo di difesa Insieme a Chiero e Tomori Potrebbe essere una valida alternativa Ilicic dietro le punte Avresti Ilicic Diaz Rebic anche Che ha giocato Dietro No Rebic in realtà Era punta Però Rebic comunque sa giocare In quella posizione Diciamo che così facendo Andresti a risolvere Diversi nodi Perché? Perché giocando con la difesa a 3 Dovresti Dietro principalmente Dovresti riuscire a rinnovare Romagnoli O comunque sostituirlo Entro questa sessione Per non farlo andare in scadenza Poi Se Calabria può fare il terzo di difesa Anche un Gabbia come Quinto Andrebbe bene O un Calulu Capitolo centrocampo Rimane sempre il centrocampo a 2 Con Chissi e Benna Ser Quindi siamo tranquilli Poi Ci sono Tonali Ci può essere Popega Può esserci Bacaio Cosi arriva Sulla sinistra c'è Teo O c'è Fodebo all'Oture Sulla destra c'è Sale Makers O magari può salire Calabria O Calulu Insomma C'è diversa abbondanza lì 3 quarti Diaz Rebic Ilicic Anche perché no Un Auger Se lo dovessimo tenere O un Leao Perché comunque uno dei due resterà E' quella diciamo che Non proprio la posizione perfetta Per Leao Che dovrebbe stare un po' più largo Però Credo che sicuramente Si troverebbe meglio A giocare dietro la punta E poi Si chiude sempre con la Solo e unica punta Ibre Giroud Quindi Questa potrebbe essere un'idea Magari sull'impiego di Ilicic Io ho perso tempo Diciamo a fare questi schemi Giusto per rendere Le idee che avevo nella testa Però Penso che Ilicic Possa fare Al caso nostro Perché E' esperto Probabilmente dopo Anzi non probabilmente Sicuramente Dopo Ibra E Giroud Sarebbe il terzo attaccante Anzi il terzo giocatore Di tutta la squadra Con più esperienza in Champions Rispetto agli altri Perché Cioè Io leggo questi nomi qui Forse Giroud Ha giocato la Champions Forse Tomori Qualche partita con il Chelsea Ma Theo Chessy Ben Nasser Calabria Forse Brahim Qualcuna Quando era al City Forse Rebic Qualcuna con l'Eintracht Ma Ci credo poco Secondo me Può fare al caso nostro Perché Ilicic Ha fatto Due anni belli In Champions Ricordiamoci che Comunque Ha fatto quattro gol Al Valencia In Champions League L'anno scorso Non è proprio Un giocatore Da buttare Secondo me Ilicic Ha un suo perché Perché Ilicic Comunque Nella sua posizione Inventa delle belle geometrie Per servire Per servire Zapata Come ha fatto Con l'Atalanto Per servire Muriel Io penso che Magari non è proprio L'esterno destro Perfetto Poi Chi lo sa Magari lo prenderemo Come vice Ebrahim Però Io sono fiducioso All'inizio non lo ero Però poi ho pensato Ma perché La società Punta su Ilicic Come vai E poi stavo Ripensando Appunto Questi vecchi schemi Che abbiamo visto Nelle ultime di campionato E ho capito Che magari Può essere quella La chiave di tutto Bene Il video finisce qui Ringrazio Chi è arrivato alla fine Mettete un like Se vi va E ci vediamo A un prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti